Coltivare pomodori è un'attività gratificante che permette di godere di frutti freschi e saporiti direttamente dal proprio orto. Che tu sia un giardiniere esperto o un principiante, seguire alcune linee guida fondamentali può fare la differenza tra un raccolto abbondante e piante deludenti. In questo articolo, esploreremo ogni fase della coltivazione dei pomodori, dalla scelta delle varietà alla raccolta, per aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi sforzi. La scelta delle varietà di pomodori. Quale fa per te? La semina dei pomodori può essere fatta direttamente in giardino o in semenzai per poi trapiantare le piantine. Se scegli di seminare in semenzaio, inizia circa 6 a 8 settimane prima dell'ultima gelata prevista nella tua zona. Usa un terriccio specifico per semi e pianta i semi a circa un centimetro di profondità, mantenendo il terreno umido ma non inzuppato. Una volta che le piantine hanno sviluppato due o tre foglie vere, è il momento di trapiantarle. Prima del trapianto, è consigliabile acclimatare le piantine alle condizioni esterne, esponendole gradualmente alla luce solare diretta e alle temperature più fresche per alcuni giorni. Questo processo, chiamato indurimento, riduce lo stress delle piante e aumenta le probabilità di successo. Quando trapianti le piantine nel terreno, assicurati di piantarle più profondamente di quanto crescessero nel semenzaio, fino alle prime foglie vere. Questo favorisce lo sviluppo di radici aggiuntive lungo il fusto, rendendo la pianta più robusta e capace di assorbire meglio acqua e nutrienti. La cura delle piante Irrigazione, potatura e supporto Una corretta irrigazione è essenziale per la crescita dei pomodori. Mantieni il terreno uniformemente umido, evitando sia l'eccessiva siccità che il ristagno d'acqua. L'irrigazione a livello del suolo è preferibile per prevenire malattie fungine, mentre un sistema di irrigazione a goccia può essere un'ottima soluzione per garantire un apporto costante e controllato di acqua. La potatura è un'altra pratica utile per migliorare la salute e la produttività delle piante di pomodoro. Rimuovi i polloni, ovvero i germogli che crescono alla scella delle foglie, per concentrare le energie della pianta sulla produzione di frutti. Inoltre, elimina le foglie più basse per migliorare la circolazione dell'aria e ridurre il rischio di malattie. Infine, fornisci un adeguato supporto alle tue piante di pomodoro. Le varietà indeterminate, in particolare, necessitano di tutori, gabbie o altri sistemi di supporto per sostenere il peso dei frutti e prevenire che i rami si spezzino. Un buon supporto aiuta anche a mantenere i frutti lontani dal terreno, riducendo il rischio di marciume e malattie. Protezione dai parassiti e malattie. Consigli utili. I pomodori possono essere soggetti a diverse malattie e parassiti che possono compromettere il raccolto. Tra le malattie più comuni ci sono la peronospora, il fusarium e la botrite. Per prevenire queste malattie, è importante praticare la rotazione delle colture, evitare l'irrigazione dall'alto e garantire una buona circolazione dell'aria tra le piante. Per quanto riguarda i parassiti, afidi, acari e nottue sono tra i più comuni. L'uso di insetti benefici, come le coccinelle per controllare gli afidi, può essere un metodo efficace e naturale. Inoltre, è possibile ricorrere a trattamenti biologici o a base di oli essenziali per tenere sotto controllo i parassiti senza ricorrere a pesticidi chimici. Un altro consiglio utile è monitorare regolarmente le piante per individuare tempestivamente eventuali segni di malattie o infestazioni. Un intervento precoce può spesso prevenire danni più gravi e salvaguardare il raccolto. Infine, mantenere l'area di coltivazione pulita e priva di detriti vegetali riduce la possibilità di insediamento di parassiti e patogeni. Il raccolto, quando e come raccogliere i tuoi pomodori. Il momento del raccolto è sicuramente il più gratificante per ogni coltivatore di pomodori. I pomodori sono pronti per essere raccolti quando hanno raggiunto la giusta maturazione, che varia a seconda della varietà. In generale, i pomodori dovrebbero avere un colore uniforme e una consistenza soda ma cedevole al tatto. Per raccogliere i pomodori, è sufficiente staccarli delicatamente dalla pianta con le mani o utilizzare delle forbici per evitare di danneggiare i rami. È consigliabile raccogliere i pomodori nelle ore più fresche della giornata, al mattino presto o al tardo pomeriggio, per preservarne al meglio il sapore e la freschezza. Dopo la raccolta, i pomodori possono essere conservati a temperatura ambiente se si prevede di consumarli entro pochi giorni. Per una conservazione più lunga, è possibile riporli in frigorifero, anche se questo potrebbe alterarne leggermente la consistenza. In alternativa, i pomodori possono essere trasformati in salse, conserve o essiccati per godere del loro sapore tutto l'anno. Coltivare pomodori può sembrare un'impresa complessa, ma con un po' di attenzione e cura, è possibile ottenere un raccolto abbondante e soddisfacente. Dalla scelta delle varietà alla raccolta, ogni fase del processo richiede dedizione, ma i risultati ripagheranno ampiamente gli sforzi. Segui questi consigli e preparati a gustare i tuoi pomodori freschi e deliziosi, direttamente dal tuo orto. Buona coltivazione!